Da poche settimane la Puglia ha fatto incetta di bandiere blu con il Salento sul podio più alto grazie ai sei comuni premiati Gallipoli, Melendugno, Casto, Salvi, Ugento e Nardò. Ma sotto la superficie il mare salentino è davvero pulito come sembra. A rispondere è l'istruttore Padi Andrea Astore che fotografa una situazione non tragica ma certamente degna di attenzione da parte della comunità. Ed anche quest'anno il Salento è stato premiato con bandiera blu per quanto riguarda la bellezza del mare. Però ahimè non è tutto quello che luccica o che si vede dalla superficie perché noi subacui lo viviamo a 360 gradi durante le nostre immersioni e ahimè sott'acqua a volte troviamo delle realtà veramente non piacevoli. Dalla bottiglia di plastica addirittura motori di auto che vengono gettati in mare o copertoni di tutti i generi. Il nostro obiettivo è salvaguardia dell'ambiente in generale e infatti durante le nostre immersioni quello che possiamo lo tiriamo fuori per appunto tirar via quello che è più possibile. Logicamente delle conseguenze. Conseguenze che queste plastiche con gli anni si stanno deteriorando danno vita a delle microplastiche che sostanzialmente vengono scambiate anche come cibo dagli esseri viventi quindi dai pesci. Automaticamente il pesce lo scambia per cibo da quanto si è visto all'inizio non era metabolizzato dallo stesso pesce quindi non dava problemi all'uomo e invece ahimè pare che si siano trovate dei resti di petrolio quindi derivanti da queste plastiche anche nelle carni dei pesci. Quindi diciamo che dovremmo un attimino pensarci su per avere un futuro migliore più che altro per i nostri figli che verranno.